Dobbiamo ringraziare la cooperativa Alfa che due anni fa ha costruito insieme a me questo documentario che poi vedremo anche all'interno della Rarsegna, che è Noi Briganti. Da questo documentario, che ovviamente trattava sei storie di ragazzi e ragazze con problemi psichiatrici e con fragilità mentali, questo documentario ha poi dato il via a una serie di idee. In questi due anni abbiamo proiettato il documentario, è stato su diverse piattaforme in questi anni e da questa idea ovviamente insieme alla cooperativa, al comune di Monbaroccio, a un po' la storia del nostro territorio abbiamo cercato di sviluppare ancora di più e parlare, cercare di parlare ancora di più di queste tematiche. Da un po' di anni a questa parte mi occupo e sono quella che un po' tende a organizzare e a creare spazi per parlare di salute mentale. In questa occasione abbiamo cercato di, ispirati dai documentari che vedremo, di parlare di salute mentale. La Rassegna si chiamerà Rassegna di documentari IN. IN sta per inclusione, integrazione e insieme. La salute mentale si narra perché noi riteniamo che queste tre parole sono fondamentali per la salute mentale, per dei progetti riabilitativi e per sostenere le persone con fragilità mentali. Quindi partiamo nella giornata del 25 agosto dove verrà proiettata il documentario IN viaggio con la mente di Chiara Menescalchi e Federico Caruso dove hanno girato questo documentario in Argentina, quindi sarà lingua argentina con i sottotitoli in italiano, dove realmente si percepisce quanto la parola inclusione sia fondamentale non soltanto in Argentina ma anche in Italia. È un termine fondamentale e ne avremo a parlare, a sviscerare questa parola. Sarà un dialogo con il sindaco Emanuele Petrucci e Vito Inserra che è il fondatore della fondazione, che è il presidente della fondazione Liberamente dove da anni è sul territorio per la tutela e la progettazione per le persone con fragilità mentali. La seconda giornata invece sarà dedicata alla parola integrazione. Noi vedremo il documentario Cresi for Africa e questa giornata forse è più pratica nel senso che noi vedremo come e quanto sia difficile lavorare nel sociale e parleremo di quanto sia fondamentale integrare le diverse risorse anche di persone, risorse proprio di persone, di ruoli per parlare appunto per sostenere la fragilità mentale. Quindi avremo presente la corresponsabile del progetto Cresi for Africa che è l'assistente sociale Esther Pace e avremo anche la presidente dell'albo degli educatori Teresina Belperio e quindi parleremo di integrare le diverse figure e di intergazione per la persona. La terza giornata è quella un attimino un po' più di sostegno e grazie alla presenza del primario Maria Elena Ridolfi parleremo di come e cosa sta cambiando nella psichiatria dopo la pandemia e cosa bisogna fare per sostenere il territorio e qui c'è la parola insieme, cioè cosa possiamo fare tutti insieme per la salute mentale. Abbiamo una storia alle nostre spalle che ci porta in questa direzione, il briciotti, la struttura accanto al centro storico, il centro storico stesso dove l'accoglienza per le figure con demenza diventava parte integrante della società e dell'economia del territorio. Quindi quando mi è stato presentato questo progetto non potevo altro che dire grazie, grazie perché ci riportano un pochettino indietro nel passato, ci riportano in un contesto dove l'economia sociale faceva la differenza, ma faceva anche sinergia, faceva economia, faceva posti di lavoro, faceva accoglienza laddove le attività economiche conciliavano sia con i nostri concittadini ma sia con gli utenti di questa nostra struttura che era il briciotti, quindi un percorso legato alle malattie mentali e alle demenze che diventava sinergico con tutto il territorio, in particolare con il borgo, laddove l'ospite diventava amico del mio concittadino e quindi una sinergia importante per quello che era il contesto del mio comune e del mio borgo in particolar modo.